The Butterfly Effect sarà il tema dell'edizione 2024 di Lucca Comics & Games, che avrà anche un omaggio a Giacomo Puccini. La manifestazione, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca, è stata presentata a Firenze. Yoshita Kamano firma i manifesti dell'evento, realizzando tre immagini, overture che segna l'inizio dell'avventura, crescendo con iniziative a Milano nel mese di settembre, e un finale fantastico il 30 ottobre che aprirà il festival. Tra gli appuntamenti più attesi, quello legato a Squid Game 2 il 31 ottobre, il creatore, scrittore e regista Wang Dong-yuk, e i protagonisti Li Yunye e Wee Ang Yun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità della seconda stagione. Festeggiamenti anche per il 25esimo di One Piece, in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy, il pirata dal cappello di paglia. Nozze d'oro per Dungeons & Dragons, con una mostra dedicata dal comune nel baluardo San Paolino. Il gioco Tetris celebrerà a Lucca il quarantesimo anniversario, con la partecipazione del creatore, anteprima mondiale del 30 ottobre su Star Wars Unlimited, il gioco di carte collezionabili. I giocatori potranno vedere il nuovo set prima di tutti gli altri. Tra gli ospiti attesi anche Robert Lawrence, autore di Piccoli Brividi, che arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan. L'edizione 2024 ospiterà poi tre editori stranieri, da Francia, Stati Uniti e Taiwan. Spazio naturalmente anche al mondo dei manga, con Azushi Camillo, protagonista a Lucca.